ciao a tutti amici dello svapo allora veniamo dunque effetti positivi negativi dello svapo nessuno e nessuno ha mai parlato dell'esercizio fisico che si fa quando si svapa esercizio fisico o cimico e salutare 1 2 1 2 ispirare espirare, ispirare espirare questo è un altro lato positivo dello svapo altro che fuma fumo ciao a tutti stai svapo